Esisteva già un film di FNAF? State smaniando nell'attesa del film e non sapete cosa guardare? Se aveste proprio fame di animatronics, e noi sappiamo che ne avete, vi consigliamo questo film che trovate acquistabile su Amazon Prime Video. E, ragazzi, se non l'avete mai visto, ora è decisamente arrivato il momento. Si chiama Willy's Wonderland ed è il primo tentativo della cinematografia di trattare il tema degli animatronics sotto una luce horror. Fortissimamente voluto da Nicolas Cage, che l'ha anche prodotto, il film parla di un tizio che si trova bloccato all'interno di una cittadina dopo aver forato tutte le gomme della propria auto. Essendo che il meccanico che deve sistemargli la macchina non accetta pagamenti digitali, per saldare il suo debito Cage è costretto a lavorare come guardia notturna all'interno del Willy's Wonderland, un vecchio locale abbandonato con degli animatronics non proprio amichevoli. Pensate che Cage stesso ha disegnato gli animatronics in questione alla fine del film, dicono che se li sia anche portati a casa. Noi l'abbiamo amato immensamente ed è diventato uno dei nostri B-movie preferiti. E voi l'avete mai visto?